Mario Kart 8! Adesso, no, non usiamo il coccinello, cambiamo un po', andiamo con, potrei provarci il kart d'oro, merita, merita davvero un sacco, però, le ruote forse conviene cambiarle, facciamo tutto quanto dorato, dai, Waluigi se lo merita, ok? Quindi, eccolo qua, il trofeo Rapa, veduta di New York di Mario Kart Tour, circuito di Mario 3, SNES, deserto, Calimari e flipper di Waluigi, andiamo! Trofeo Rapa, veduta di New York! Prima corsa! Sono pronto! Donkey Kong, the best musical! E... via! Ok, essendo di Mario Kart Tour, vuol dire che ogni volta che finiamo un giro, cambierà il percorso, quindi cerchiamo di stare attenti. Nel frattempo, dobbiamo fare una bellissima derapata e prendere quante più monetine possibili, cercando inoltre di capire dove è possibile fare boost per saltare parti di percorso, ma, eh, finché non le trovo, pazienza. Il kart d'oro non è affatto male, eh, con Waluigi, perché Waluigi è un personaggio pesante, come Golden Mario, quindi, va bene, andiamo così. Una bella derapata, abbiamo anche il guscio rosso, possiamo andare avanti. Abbiamo Baby Peach davanti a noi, ok, che ha tre banane, ok, finché non perde una banana. Oh, ora, perfetto! Non possiamo fare niente! L'ho beccata, l'ho beccata, ok. Se non usa nessuno un fulmine oppure un guscio blu, siamo effettivamente primi ancora, quindi va bene. Non importa, non importa, cioè... No, il Goomba! Ok, ce l'ho fatta. Ah, siamo già al contrario. Vi ricordo che nei percorsi di Mario Kart Tour è possibile vedere nemici che vanno... Nemici, ok. Vedere avversari che vanno nel senso opposto al vostro. Ho sbagliato, non ho mosso il Pro Controller, ma pazienza. Ora, sì, perfetto. Let's go. Dammi una banana. Oh, una bomba! Forse è meglio di una banana la bomba, quindi andiamo. Dov'è Peach? Dietro di noi? E adesso non più. Ora arriverà. Sono sicuro che per karma arriverà il... Oh, di qua devo girare, ok. Il guscio blu. Stiamo attenti, abbiamo una banana. Vorrei davvero tanto, tanto, tanto avere un... Non un guscio blu, ma un klaxon, così almeno posso difendermi un po', ma pazienza. Allora, vai. Siamo sottoterra adesso. Ah, è un peccato perché non ho giocato a questa pista in Mario Kart Tour, quindi non so come funziona, ma... Dai, c'è Luigi dietro di noi. Non possiamo farci superare. C'è superato Luigi, è vero? Aspetta, 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 aspetta. Ok, così si fa! Ok, rallentare giusto un secondo per poi colpire Luigi. Ok, dovrei vedere però i momenti salienti, perché servono per la miniatura, quindi vedrò solo questi e quelli dell'ultimo percorso. o in camera, farò un taglio nel frattempo, perché mi servono appunto... Vorrei davvero tanto avere una miniatura con Waluigi nel flipper di Waluigi. Per questo ho scelto, indovinato un po', Waluigi. Ah, mamma mia. Si merita un suo gioco. Tutti quanti lo sanno. Nintendo lo sa, ma... Ah, pazienza. Waluigi! Prossima corsa. Trofeo Rapa. Circuito di Mario 3. Simile, ma non uguale agli altri circuiti di Mario. 3, 2, carica, 1... Partenza! Ok, cominciamo con una bella della fata, perché mi hanno già superato. Ok. Ah, dai. Ah, che bella questa host! Vai! Nostalgia portami via. Ok, però... Vorrei prendere due oggetti. Ok. Abbiamo anche il busto, Viola. Vediamo se riesco a vedere qualche scorciatoia che potrei prendere per facilitarmi la vita. Lo sapevo che mi stavano per buttare un qualcosa addosso. Lo sentivo nelle mie vene. Là, là, laggiù c'è un buco nel muro dove è possibile usare un fungo che noi non abbiamo, ovviamente. In ogni curva si può usare un fungo. Sto cercando di controllare per bene tutto quanto perché non voglio fallire. Non voglio arrivare ultimo, intendo. Nel secondo. Vorrei provare a fare come ho fatto l'altra volta e rimanere sempre primo, se possibile, ok? L'importante è vincere il trofeo. Non è arrivare solo primo. Però sarebbe davvero più bello arrivare primo punto perché Waluigi, ripeto, se lo merita. Ok, vai. Vai, vai. Ok, abbiamo tutte e dieci le monetine. Eccolo che sta arrivando. Eccolo che sta arrivando. Me lo sentivo. Va bene, l'ho chiamato anche prima. Non è arrivato prima. È arrivato in questo percorso dove non è tanto difficile andare più avanti. Certo, riuscissi a trovare un oggetto che mi protegge. Il punto è che di norma non vi danno mai banane se avete solo un oggetto. Vi danno sempre una moneta. Vediamo. No! Spicy! Perfetto. Vai. Why Waluigi? Ancora un altro po'. Mio caro... Eh, come no. No, stavo per dire il mio caro Mcknight Crusadia Avramax. Ma non c'entra niente con Waluigi. Mi è venuto in mente perché l'ho visto recentemente su Master Duel. Ecco... Ah, mi sono morso la lingua. No! Oh, bomba. Bombs. Bombs. Dai. Sono sicuro che qualcuno voglia un paio di bombe. Quindi... Andiamo. E abbiamo finito. Guardate il distacco! Quanto è potente Waluigi. Come entità. Ok? Benissimo. Trenta punti. E abbiamo anche sconfitto Luigi, ma... Vabbè, ovvio. Ok. Guardi i momenti salienti e poi andiamo alla prossima corsa. Trofeo Rapa Deserto Calimari Non c'era anche in Mario Kart 7 questa pista? Mi sembra di sì. 3 2 1 Partenza! Mario World Gear! Perché tutti quanti sanno che le bretelle di Mario sono commercializzate dal Regno dei Funghi? Probabilmente sì! Come hai usato? Rubarmi quello che mi hai rubato. Vai, 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 vai. Boost! Haha! Ti ho rubato anch'io degli oggetti. Sì! Quel treno... No, 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 no! Ok, ok. Quel treno può bloccarvi la strada. Almeno poteva farlo in Mario Kart 7, quindi... Non so se lo può ancora fare. Probabilmente sì. Meglio stare attenti. Ok, vai. Ho preso solo un oggetto. Questa cosa non va per niente bene perché... No, è una banana. Ok, di norma il gioco non è così clemente con me. Mi dà sempre delle monete finché non prendo altri oggetti o almeno due oggetti. Forse però è meglio così. Vedo qualcuno saltellare là sopra. Cos'è? Lemmy? Sì, è Lemmy perché Larry è quello blu e Lemmy è quello con i capelli arcobalino. Quindi andiamo. Oh, 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 oh. Ok, perfetto. Banana! Oh! Il percorso è cambiato. Questo non c'era prima, giusto? Giusto? Spero di sì. Ok. Vai! Ah, mi hanno rubato l'oggetto. Ovviamente. Ovviamente mi rubano l'oggetto. Non siamo sui binari adesso. Mi sa che ora arriverà il coso, vero? Il 3. Lo sapevo. Ok. Meglio stare attenti per quello che non ho fatto nessuna derapata. Oh! Immaginate qui una bomba. Qui una bomba fa danni perché il percorso essendo molto stretto è anche complesso da navigare. Ok, ok. Il treno c'è ancora, mi raccomando, attenzione. Ok. Ho visto all'ultimo secondo quel... Un attimo. Quindi questo percorso un po' come Mario Kart Tour, come i percorsi di Mario Kart Tour cambia leggermente. Ci sta, no? Cioè, preferirei i percorsi più tradizionali. No, no. Chi sta arrivando? Ok. Però, pazienza. Comunque sono buoni questi percorsi qua. Anche perché siamo un'altra volta primi. Un attimo solo. Ho appena visto un cartello in lontananza dire Banana Boy? Credo di sì. Sì, l'ho visto. Vabbè. Momenti salienti e poi prossima corsa. È il momento. Trofeo Rapa. Flipper di Waluigi. Ultima corsa. Tre. Due. Uno. Partenza. Stiamo giocando in casa. Non possiamo fallire. Vai, Waluigi! Ah. Adoro. Adoro. Il flipper di Waluigi è la mia pista preferita di Mario Kart DS. Credo. Probabilmente lo è. Probabilmente lo è. Allora. Vediamo di non andare subito al primo posto. Perché non voglio che si ripeta quello che è successo l'altra volta. No! Gira bene. Waluigi. Gira bene. Stai giocando in casa, ripeto, quindi. Stiamo attenti. Ok. Ora. Perfetto. Meglio fare così. Abbiamo due oggetti extra di cui uno potrebbe essere un luscio rosso. Uh la la. Ha ha. Mi spiace ma... No! Dai, vai avanti. Vai avanti. Ecco qua. E ora ti ho colpito. E ora colpisco anche te. Ok, no. Non ho colpito Luigi. Pazienza. Attenzione ai respingenti, mi raccomando, perché vi respingono. No, 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 no. Detesto questa parte. Ok. L'ho detto. È il mio percorso preferito, credo, di Mario Kart DS. Però è iper snervante, ok? È molto snervante andare dove ci stanno i respingenti. E non solo respingenti, come si chiamano? Le alette del flipper, ok? Perfetto. Non bisognerebbe neanche arrivare a questo boost. Conviene in effetti andare a prendere una curva stretta, ma ormai ho preso la curva larga. Ok, ora. Non abbiamo nessuno vicino a noi. Posso concentrarmi e andare avanti. Bravissimo, Waluigi. Ok, perfetto. Ancora gira. Dai, doppio. Mi serve... Lo vedo! Lo vedo, ti prego, ti prego, dammi un... Eh, vabbè, sì, pazienza. Ehm... Lo vedo... Ur... Lo vedo nel senso che ho visto quello. Ok. Magari non mi supera... Eh, baby bitch, ovviamente. No! Waluigi, fai una bella dirappata, non farti... No! No, 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 no. Non posso perdere in casa. Non posso seriamente perdere... Mi hanno rubato un sacco di oggetti. Come di... Mi hanno colpito 70 volte. Cioè, ora in un... Oh mio Dio, in un... Ma dai! Cioè, come vi permettete? Allora, stavo giocando in casa. Ho detto, non posso perdere in casa. Ovviamente ora divento quinto perché mi colpiscono con 70 miliardi di oggetti. Devo prendere qualcosa che mi aiuti. Intanto andiamo. Dai! Siamo al quarto posto. Devo prenderla stretta, per forza, ok. Abbiamo solo una moneta, però. Va bene, pazienza. Oh, l'ho preso l'oggetto stavolta. Vai! Siamo tutti quanti vicini, eh? Oh! 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 Baby! Siamo attenti. Possono ancora recuperare. Non voglio rischiare niente. Mi sono colpiti da soli, vero? Ok, quindi il karma si è riequilibrato almeno un po'. Curva stretta, mi raccomando. Qui è ancora più stretta. Attenzione. No, l'ho fatta troppo presto. No, l'ho fatta bene invece. Ok, no, 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 no. Dove sono? Ok, ok. No! No! Oh! Oh! No! No, no! Ovviamente. All'ultimo secondo Baby Peach mi fa arrivare quarto. Ah! Detesto questa cosa. Detesto un botto. Tiralo davanti. Non ti azzardare a tirarlo davanti a me, eh. Oh! Eh, va bene. Dai! Ah! Ho avuto molta, se non troppa, sfortuna, alla fine. E non potete dire che non è vero. Ma abbiamo vinto lo stesso, quindi non posso lamentarmi. Ovviamente, giocavo in casa, ho detto non possiamo perdere, e mi colpiscono. 800 volte. Ok, qui devo per forza guardare i momenti salienti, perché se la miniatura non è di questa pista, non ha senso fare il DLC di Mario Kart, insomma. Cioè, dai! Dai! Ah! Ok. Te lo meriti, Luigi. Te lo meriti seriamente. Anche tu, Baby Peach. Te lo meriti. Ok. Scusate, mi fomento molto quando gioca a Mario Kart. Ehm, benissimo. Quindi, mi sa che possiamo vedere adesso direttamente il finale, perché sì, abbiamo fatto. Vediamo i risultati! Io sono Luca, e io sono Paolo, e vi presentiamo Mario Kart Television! Allora, Luca, come si è comportato Waluigi in queste ultime piste? Ma guarda, io direi che si è comportato molto bene, se non per una immensa sfiga nell'ultima pista, ossia la sua pista. Vero Paolo? Vero Luca? Perché Paolo e Luca? Non lo so. Ehm, forse Camera Caffè? Forse no? Comunque, abbiamo vinto il trofeo Rapa. Primo, primo, primo e terzo. Lo so, è brutto, però abbiamo comunque vinto appunto il... Eccolo qua. Trofeo Rapa. Congratulazioni! Ah, quanto è brutto vedere quella stellina là sopra che non sono tre stelline. Non importa, ehm, rigiocherò a questo trofeo più tardi off camera, perché voglio assolutamente le tre stelle in tutto quanto quello che faccio. Ora però, possiamo andare nell'outlet Cocco. Ve l'ho già preannunciato, ma dovrebbero aver modificato una cosa dell'outlet Cocco. Inoltre, eh, non posso perdere l'occasione di outlet Cocco di un'altra volta. Non importa come gioco, va bene, anche 150cc, eh, devo fare solamente un giro, poi abbandonerò il percorso, non voglio allungare di troppo il video, però, a quanto pare, hanno messo le macchine in movimento nell'ultima parte del percorso, cosa che, ehm, ci voleva, perché la gente si è lamentata un sacco del fatto che, ah, stanno fermi, ma non è un parcheggio, quindi nè. Va bene, non importa. Prima corsa. Tre, due, uno. Vai, host. You just got Coconut Mold. Ok, adesso condividete questo video per outlet Coccari vostri amici. Sapete com'è il meme. Comunque, l'ho già detto, ma non finirò la corsa, voglio solamente andare a controllare la modifica della pista, eh, che non è solamente, ehm, estetica, eh, mi raccomando, rende più difficile la parte finale del percorso, ma il percorso originale della Wii era più complesso alla fine, quindi l'hanno riadattato bene ora, giusto? Esatto, ora le macchine si muovono e fanno anche una mini derapata. Non importa, mi hanno colpito con un fulmine all'ultimo secondo, oltre il danno, anche la beffa. Quindi, adesso abbandono, perché nella prossima parte di Mario Kart 8 Deluxe affronteremo il prossimo trofeo DLC della seconda onda DLC, ossia il trofeo Elica si chiama, sì. See you next time, baby. Ciao.